Si è svolta dinanzi al Palazzo della Regione Potenza la manifestazione di col diretti Basilicata per chiedere provvedimenti immediati circa il sovraffollamento dei cinghiali sul territorio lucano. Secondo l'Associazione degli Agricoltori, il cinghiale provoca, oltre al danneggiamento diretto delle colture, anche un notevole rischio per l'incolumità delle persone e la possibilità di danni a beni, soprattutto in relazione agli incidenti stradali. Secondo i dati forniti dalla Regione Basilicata sono 123.000 i cinghiali stimati al 31 dicembre 2015, rispetto ad una soglia sostenibile di 23.000 presenze. Nell'ultimo bienio hanno causato circa 300 incidenti stradali e danni di circa 4 milioni di euro alle colture soltanto negli ATC. Il presidente IV e il direttore Mattia sono stati quindi ricevuti dall'assessore alle attività agricole Luca Braia e dal segretario regionale del Dipartimento Marsico. Insieme hanno raggiunto l'accordo che prevede un periodo di abbattimento dei cinghiali di 9 mesi da aggiungere ai tre di normale attività di caccia. La Coldiretti ha chiesto inoltre l'attivazione di un osservatorio per monitorare gli ATC durante le fasi di abbattimento e restituire così un nuovo equilibrio all'ambiente e all'agricoltura.